buongiorno a te buon san valentino cosa ne diresti di dedicare questa giornata proprio dedicata all'amore ad amare te stesso sì perché nella tua vita non ha senso dedicare amore agli altri se non lo dedichi anche a te stesso non stiamo parlando di atti egoici o di qualcosa che non ha nulla a che fare con l'amore stiamo parlando di vero amore dedicare amore a te stesso vuol dire prenderti il tempo per te per prenderti il tempo per dedicare qualche attimo speciale all'ascolto di quello che tu ami tu desideri tu vorresti scegliere tu non hai ancora avuto la capacità di scegliere nella tua vita sarebbe molto interessante se tu oggi ti prendessi veramente un po di tempo per ascoltarti per dedicarti delle attenzioni che magari normalmente non ti dedichi e questo è un bellissimo atto d'amore infatti la cosa più preziosa da dedicare a qualcuno quando provi amore per questa persona che sia il tuo compagno la tua compagna il tuo marito tua moglie o un amico o un familiare è proprio il tuo tempo c'è un cagnolino che mi è venuto trovare mi ha commentata è proprio il tuo tempo e quindi prenditi il tempo e dedicati tempo perché questa è la cosa veramente più preziosa che puoi donarti e usa questo tempo in modo utile produttivo perché tu alla fine del tempo che hai deciso di dedicarti possa sentirti arricchito possa sentirti diverso cambiato possa sentirti appagato del tempo che hai dedicato a te stesso e dell'amore che hai iniziato a darti e quindi con questo augurio di tantissimo amore per te e per tutte le persone che ami ti saluto e ti auguro veramente una giornata magica ciao buonissima giornata